Pavel, che dire se non ben tornato? Quanto sei contento di essere tornato con i tuoi compagni a lottare sul campo? Sono contento che sono riuscito a giocare una partita a casa qua, che per me era importante tornare almeno un po' a giocare per dimostrare per i nostri tifosi che sono pronti. Peccato che non abbiamo vinto, ma ci sta e forse dobbiamo vincere prossimo. Quanto hai lavorato in questi mesi per tornare? Anche così presto il mister ha detto che hai bruciato le tappe. Devo ringraziare tutto il staff medico, tutti i preparatori, perché stavo come figlio per loro. Abbiamo lavorato veramente tanto, ogni giorno doppio, come 6-8 ore di lavoro, che mangiavo sempre a campo. Voglio ringraziare la mia ragazza che stava un po' dietro. Abbiamo lavorato veramente bene. Ecco, cosa vuol dire per te l'applauso a scena aperta di questo stadio stasera, il momento in cui sei entrato in campo e il boato che ha accompagnato il tuo ritorno? Cosa vuol dire per te? Tanto, era bellissimo, ma volevo stare un po' concentrato perché quando si sente anche entrano come emozioni che vuoi un po' piangere, che è meglio restare un po' chiuso. Volevo ringraziare i tifosi che hanno mi dato anche spinta, che subito sono uscito dopo la partita. Tanti messaggi, tante cose belle che hanno spinto a me a lavorare tanto. Tu hai guardato i tuoi compagni a lungo da fuori, ma loro non si sono fermati. Il Verona ha continuato a fare quello che è un campionato bellissimo. Sì, abbiamo fatto un campionato bello, peccato solo per i tifosi che noi abbiamo vinto oggi, ma alla fine abbiamo fatto il nostro obiettivo e dobbiamo stare contenti.